dirigente pila totta del secondo circolo didattico monsignor petronelli di trani in questa bellissima iniziativa di regala un giocattolo ce ne parli allora siamo molto contenti di aver potuto partecipare un'iniziativa veramente di grande valore quella di regala un giocattolo perché crediamo fortemente dell'importanza di essere accanto a del prendersi cura di e in questo caso particolare i bambini capiscono che cosa vuol dire poter donare semplicemente un giocattolo a coloro che in questo momento stanno vivendo un una difficoltà un momento di difficoltà e allora abbiamo partecipato a questa raccolta di giocattoli a favore del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari promosso proprio dal circolo Acli San Nicola Pellegrino di Trani grazie a loro perché promuovono un'iniziativa così fondamentale dal punto di vista sociale e per noi scuola è veramente fondamentale promuovere ciò che riguarda la sfera insomma dei valori dei veri valori e quindi promuovere anche l'accoglienza la solidarietà e come dicevo prima l'essere accanto a chi vive anche un momento di difficoltà. L'appuntamento oggi? Allora l'appuntamento è per stasera alle ore 20 sul sagrato della parrocchia di San Magno ci saranno i bambini anche della scuola Petronelli che porteranno il loro messaggio di augurio con dei semplici cantini natalizi e quindi a stasera è per vivere insieme un momento nella semplicità ma nei veri valori.